Sì, ti serve l'acqua? Sì, si stacca, ecco si stacca, sì, ma guarda che bello, pure quello che si è staccato, lo sai? Te la porto, e che ci fa? Lo sai che sono bello? Vabbè, avanti questo. Questo si leva piano piano, no? Sì, Davide? Sì. Vado, ecco. Con questo pure? Sì. Senti come scrocchia. Ah, questo è bello Riccardo. È meravigliosa sta cosa. È tutto bellissimo. Adesso il piattone, no ancora no, c'è il coperchio. Che è questo? È il coperchio. È il coperchio. C'è altri pezzi? Stava quasi per fare la doccia. Hai visto? Sì, c'è il pezzo. Scusa, ci piove. Che pezzello ha? Quello è stupendo. No, ma tutti e due sono uno più bello dell'altro. L'ero male. Grazie.